Il filosofo Federico Sollazzo Incontriamo nuovamente il filosofo Federico Sollazzo per una conversazione intorno al tema complesso della teologia politica. Una prima questione è proprio un chiarimento di quel che oggi nel dibattito si intende per teologia politica. Prego Federico. Innanzitutto buongiorno a tutti. L'argomento è talmente vasto che è affrontabile da diverse prospettive, da diversi punti di vista. Forse può essere utile allora delineare quelle che sono, a mio parere, le direttrici fondamentali che si trovano all'interno di questo enorme concetto. Ad esempio, il concetto che sappiamo che ha messo nero su bianco nel 900 Schmitt, ma questo non significa che lo abbia creato snovo, perché questo concetto già circolava ad esempio in Weber o in Proudhon, o addirittura molto prima in Varrone, ma Schmitt è stato però colui che per primo lo ha messo nero su bianco, affrontandolo frontalmente e dandogli un certo tipo di caratterizzazione alla quale dopo sicuramente accenderemo. Dunque, quali possono essere le direttrici fondamentali che troviamo all'interno di questo concetto? Ad esempio, io credo che possa definirsi innanzitutto un modo di intendere la teologia politica come religione politica, cioè una sorta di divinizazione della politica, mitizzazione culto della politica, un concetto ovvero nel quale le istituzioni, lo Stato nazionale nel 900 e oggi non sono più solo quello, le istituzioni si pongono nella stessa luce, nella stessa posizione di un culto, di una religione, quindi hanno i loro cerimoniali, i loro sacerdoti, i loro amministratori e così via, e all'interno di questo modo di intendere la teologia politica, io credo che rigada anche quella prima definizione antica di varrone di teologia civile e in un ambito invece contemporaneo riguardano le caratterizzazioni che autori come ad esempio Fogelino Aaron cercarono di dare dei totalitarismi novecenteschi definendoli come delle religioni politiche, ad esempio c'è l'opera di Aaron che si intitola proprio L'avvenire delle religioni secolari o anche nel 44 addirittura dal giornale La France Libre già iniziava a parlare dei totalitarismi novecenteschi come delle forme di religione politica. In questa accezione, io, in questo frangente, nel mio piccolo posto non sono d'accordo nel definire i regioni totalitari del novecento come quelle religioni politiche, perché a me sembra che funzionassero non attraverso il meccanismo dell'adesione ideistica ad una ideologia, questa era a mio parere soltanto una facciata formale, ma funzionassero perché, come ad esempio scriveva Marcuse negli scritti che il governo americano gli commissionò durante la guerra per cercare di comprendere meglio il proprio nemico, funzionavano non che il popolo e la gerarchia tedesca credesse nei miti della razza, in questi altri miti che venivano proposti all'epoca, ma perché è fin tanto che il Führer poteva assicurare benessere, produttività, efficienza alla popolazione. Quindi appunto non funzionavano attraverso meccanismi di adesione fioristica, ma attraverso questi meccanismi più concreti dell'assicurare benessere e efficienza alla popolazione. Ma insomma, diventamente da questo, una prima direttrice che si trova all'interno del concetto di liturgia politica è quella di intenderla come religione politica, cioè come una sorta di culto, divinizazione delle istituzioni. Un'altra è quella invece di poterla intendere come religione di Stato, che rappresenta, possiamo dire, il rovescio della medaglia della precedente caratterizzazione, ovvero religione politica. Siamo di fronte ad una religione di Stato quando lo Stato dice esplicitamente di rifarsi ai precetti di una certa religione e quindi se nel caso della religione politica, nel dualismo tra religione e politica, quello che aveva la precedenza era la politica, nel caso della religione di Stato, invece, in questo dualismo, quello che ha la precedenza della religione, lo Stato diventa soltanto l'esecutore, colui che mette in pratica i dettami di una certa religione. E noi italiani abbiamo un chiaro esempio di questo in quelli che all'epoca del fascismo furono i patti lateraliensi, anche nelle eredità che di questi abbiamo tutt'oggi. Un altro modo di intenderla può essere quello di religione civile, che a mio parere è una sorta di sottocategoria della religione politica, perché anche la religione civile si connota come una sorta di culto delle istituzioni, come nel caso della religione politica. Solo che, a differenza della religione politica, la religione civile non cerca un fondamento di tipo religioso, ma cerca un fondamento di tipo razionalistico. L'esempio classico è quello dell'illuminismo, soprattutto del contratto sociale di Rousseau, nel quale si cercava una fondazione esclusivamente razionalistica e in nessun modo religiosa delle istituzioni, che però poi una volta poste in maniera razionalistica erano soggette ad una sorta di culto di venerazione, di divinizazione, come accadeva nel caso anche delle religioni politiche, ovvero nel caso di quei sistemi che invece dicevano di basarsi su un fondamento religioso anziché razionalistico. Troviamo poi all'interno di questa questione anche il sottoinsieme, possiamo dire, della questione, della separazione tra religione e politica, anche se a mio modesto parere nei casi precedenti siamo di fronte ad una sorta di ontologia sociale, cioè un modo di intendere quella che è l'essenza e la natura di una certa società, se essa è regolata dalla religione o dalla politica o da un certo tipo di rapporto fra di loro, mentre nel caso della separazione tra religione e politica ci troviamo di fronte non ad una ontologia sociale, ma ad una possibile forma pratica di organizzazione dei rapporti tra questi due poli. E questi rapporti li troviamo in tutte le ontologie sociali, diciamo così, delineate in precedenza, perché sia che noi vogliamo dare più importanza alla religione, più importanza alla politica, cercare un equilibrio fra di esse, se in tutti i casi poi si pone il problema della normazione dei rapporti fra religione e politica. E poi in epoca contemporanea, in Sud America, a seguito del Concilio Vaticano II, sappiamo che si è sviluppata la cosiddetta teologia della liberazione, che vede nel messaggio religioso un modo per lenire e trovare una soluzione alla sofferenza delle masse e quindi dà un'accezione pratica e concreta a quello che è il messaggio dei testi religiosi. Ora, questo quadro che ho in maniera molto sommaria e delineata, possiamo tenerlo come scenario e arrivare finalmente a Schmitt, a colui che dicevo in precedenza non coniato ex novo, ma messo nero su bianco questa definizione di teologia politica nell'opera proprio intitolata Teologia politica, che si trova nelle categorie del politico. Quello che a me sembra molto interessante è notare come Schmitt intenda la teologia politica come l'eredità che, sappiamo benissimo, l'eredità che si trova all'interno della politica di quelle che erano le categorie teologiche, quindi come la secolarizzazione di queste categorie teologiche. A questo proposito, se siete d'accordo, possiamo anche leggere queste famosissime tre righe nelle quali Schmitt dà un corpo a questa sua teoria quando scrive, proprio nell'opera Teologia politica, tutti i concetti più pregnanti della moderna dottrina dello Stato sono concetti teologici secolarizzati, non solo in base allo sviluppo storico, poiché essi sono passati dalla dottrina dello Stato dalla teologia, come ad esempio Dio Onnipotente, che è divenuto l'Onnipotente legislatore, ma anche nella loro struttura sistematica la cui conoscenza è necessaria per una considerazione sociologica di questi concetti. Ora questa definizione, secondo me, è molto interessante metterla a confronto con quella che invece diete Asman di Teologia politica che inverte i termini del discorso schmittiano sostenendo invece, qui leggo questa riga di Asman, sostenendo invece che tutti i concetti pregnanti della teologia sono concetti politici teologizzati, quindi c'è questa inversione del senso schmittiano. Ora, a mio parere, è molto interessante mettere a fianco queste due definizioni, perché danno, senza adesso entrare nel merito di questa vicenda che è bastissima e prendere posizione, ma semplicemente notare che esistono queste posizioni una a fianco all'altra è molto interessante e divertente anche, direi, perché dà il senso del fatto che il termine teologia politica è un termine che si può leggere a doppio senso di percorrenza, cioè lo possiamo leggere come una politicizzazione della teologia, e questo è il senso schmittiano, e anche come una teologizzazione della politica, questa è quella a cui alludeva Asman. quindi non siamo di fronte a un termine diciamo così bloccato e a senso unico, ma a doppio senso di percorrenza e entrambi questi sensi di percorrenza vanno tenuti in considerazione. Sì, in entrambi i casi tuttavia c'è, diciamo, l'ipotesi di Dio nella politica o l'ipotesi della politica in Dio. Cioè, rimane una questione Dio da leggere? Sì, rimane una questione Dio che direi rimane una questione io direi teleologica perché non credo che si possa parlare di teologia senza parlare di teologia rimane una questione teleologica cioè rimane rimane la questione di uno scopo superiore che Dio o chi per lui ci dà e quindi di un telos e quindi di una prospettiva che diventa inevitabilmente una prospettiva possiamo dire apocalittica cioè di attesa della fine di un certo tempo e di inizio di un altro tipo di tempo. Questo è Smith soprattutto, sì. Certo. Qual è la teologia politica a cui fa riferimento Smith? È Paolo, è San Paolo. Ah, certo. quindi è la sì. Sì, Smith ovviamente anche Taubes fa riferimento a questo. Sì. E io trovo molto ricca di ulteriori spunti la lettura che fa Taubes. Federico, scusa, dalla regia ci chiedono se puoi aggiornare il video. Penso che l'immagine si sia fermata la tua immagine. Io? Se puoi ridare start al video. La questione è quella appunto che non c'è teologia politica senza teleologia. Era questa la questione che stavi leggendo. Prego. dicevo io non credo che si possa parlare di teologia politica senza parlare di una teleologia perché ogni teologia ovviamente contiene una certa un certo telos un certo fine un certo scopo che Dio o chi per lui ci dà e quindi ci rende semplicemente funzionari di quello scopo e quindi riguarda ogni teologia in qualsiasi maniera noi la vogliamo leggere riguarda un certo tipo di rapporto che noi intratteniamo con il tempo che diventa un rapporto di tipo possiamo dire apocalittico cioè di attesa della fine di un certo tempo e di avvento di un altro tipo di tempo e questo ha a che fare con lo scopo che noi vediamo all'interno del tempo che sta finendo e di quello che inizierà da questo punto di vista mi sembra molto interessante la lettura che fa Taubes della lettera di San Paolo che sappiamo ovviamente è oggetto di analisi e di scontro anche tra Taubes e Scholem da una parte e Taubes e lo stesso Schmitt dall'altra perché nell'analisi che fa Taubes mette al centro del discorso di Paolo il fatto che la ribellione che Paolo invita a esercitare nei confronti della legge è motivata da una interiorizzazione dello scopo del telos all'interno delle coscienze delle singole coscienze individuali e quindi è una opposizione alla legge dell'impero che non prevede uno scontro possiamo dire fisico materiale concreto con l'impero ma si oppone all'impero in quanto oppone al fine collettivo dell'impero il fine individuale delle singole coscienze ed è a mio parere una cosa dirompente perché è la prima volta per quanto io ne sappia è la prima volta che in occidente viene introdotto il tema della coscienza del singolo che si oppone ad un disegno di tipo collettivo ora rimane però anche in questo tipo di lettura il fatto che abbiamo sempre a che fare con un telos e non solo ma che abbiamo sempre a che fare con un telos che è di tipo collettivo perché il fatto che non sia più la legge dell'impero ma siano le singole coscienze a determinare lo scopo non cancella il fatto che le singole coscienze siano orientate tutte nella stessa direzione e allora noi abbiamo un passaggio dal piano della legge dell'impero cioè lo romano all'epoca dal piano della legge dell'impero al piano della legge delle singole coscienze e tuttavia rimaniamo in un ambito di una collettivizzazione del telos perché tutte queste coscienze sono orientate all'interno verso uno stesso scopo e una precisazione appena un dettaglio e poi ci sono per dire così nel momento che viene creata la coscienza orientata ci sono le coscienze che non sono orientate e questo è quello che diventa la definizione di nemico in Schmitt che è fondamentale perché per questa logica ha bisogno tra virgolette del nemico ed è il problema di base cioè che sono sempre logiche che escludono il terzo hanno bisogno del principio del terzo escluso certo Schmitt di rielabola certamente nella forma della contrapposizione amico nemico ora a questo punto quello che io mi chiedo è se sia possibile in qualche modo uscire da questa che sembra essere un impasse ovvero il fatto che anche quando noi cerchiamo di liberarci da un telos diciamo così collettivo dettato dalle istituzioni come nel caso della legge dell'impero romano per Paolo rientriamo però sempre all'interno o meglio ci ritroviamo perché non ne usciamo sempre all'interno di un ambito nel quale esiste questo telos è un ambito teleologico ed è ancora sempre un telos collettivistico dicevamo prima di iniziare questa conversazione se questo può ritrovarsi anche nell'epoca contemporanea a mio parere sì certo che può ritrovarsi anche nell'epoca contemporanea nella quale abbiamo il telos che è quello in questo specifico momento storico del capitale in passato era quello del potere del capitale ora il capitale ha preso il dominio anche sul potere quindi il telos è quello dell'accrescimento del capitale anche se da questo punto di vista io poi ritengo però che esista uno sfondo più vasto nel quale questo telos storico si colloca è quello che forse potremmo definire di una sorta di teologia tecnologica perché è vero che lo scopo che perseguiamo è quello del capitale ma è altrettanto vero che lo perseguiamo attraverso criteri che sono criteri che emanano dalla tecnologia cioè l'efficienza l'utilità la calcolabilità la produttività e così via senza un certo tipo di impostazione tecnologica il capitale non si accresce quindi non raggiungiamo questo scopo del suo accrescimento quindi a mio parere c'è una sorta di teoleologia del capitale che si colloca in un quadro di teologia tecnologica tant'è vero che io nel mio piccolo sono un po' scettico nei confronti di quei movimenti che si basano soltanto su una rivolta alle dinamiche del potere e del capitale senza però prendere in considerazione anche una rivolta ed una fuoriuscita da quelli che sono gli scenari imposti dalla tecnologia perché se noi al telos del capitale ne sostituiamo un altro in qualsiasi altro rimanendo però sempre all'interno dello scenario imposto dalla tecnologia che è quello della efficientizzazione della calcolabilità dell'utilitarismo e così via non credo che cambiamo di molto la condizione nella quale ci troviamo ad ogni modo tornando a quello che diciamo in precedenza cioè esiste la possibilità di uscire da quella da quella impassa la quale accennavamo attraverso Taubes forse questa possibilità c'è riscoprendo qualcosa di quello che ha scritto recentemente Agamben in opere come ad esempio Stato di eccezione Il regno e la gloria ad esempio in Stato di eccezione mi riferisco al fatto che lui ci parla di riscoprire il significato greco antico del termine o economia o economia quindi di passare ad una sorta di teologia economica che non è da intendersi come teologia del denaro ma teologia della o economia ovvero riscoprire il fatto che in passato la politica non era intesa come produzione di qualcosa perseguimento di un certo fine ad esempio oggi potremmo dire crematistica perseguimento del denaro ma era intesa semplicemente come amministrazione dell'esistente e questa è una cosa messa molto bene in rilievo anche da Anna Arend in un'opera ad esempio come evitativa nella quale ci parla di come nella sfera nello spazio politico antico la politica fosse semplicemente lo scenario della amministrazione della polis finalizzato alla produzione di gesta individuali non ad un fine che è dettato dalle istituzioni ora che significa anche il sì 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 volevo solo aggiungere questo si collega anche con quella inoperosità alla quale fa allusione Agamben anche in questa anche in Agamben sì quella inoperosità perché ogni volta che noi intendiamo la politica come produzione di qualcosa inevitabilmente siamo al di fuori di una politica in Chiesa o economia e quindi se la vogliamo intendere semplicemente come amministrazione di ciò che già esiste dobbiamo allora anche intendere l'attività del singolo come un'attività inoperosa anche per quanto riguarda il testo di Agamben sia il regno la gloria sia appunto stato d'eccezione ma anche dal titolo indicativo il tempo che resta rimane preso nella teleologia rimane preso nella stessa ipotesi di tempo che finisce nella stessa escatologia che pur differente c'è in Smith c'è in e quindi è lì che dico ma ci rimane da leggere ancora la questione di Dio di Dio come dicibile di Dio che sino noi non c'è più teologia politica e gli uomini devono inventarsi una politica è ancora la politica di Dio quella di Agamben infatti io citavo questi due testi perché contengono degli spunti che a mio potesto parere possono essere rielaborati in una forma un po' diversa perché dunque se noi io credo che se noi vogliamo dunque liberarci in assoluto del tema del telos non credo sia possibile perché significherebbe liberarsi di una prospettiva di futuro liberarsi della capacità di progettare e vivere in una sorta di eterno presente allora forse quello che dovremmo fare non è liberarci dall'idea di telos in sé ma da un certo modo intendere il telos cioè un modo che è etero diretto preorientato e noi non facciamo altro che accettare questo orientamento che già sussiste che assumiamo e del quale diventiamo quindi semplicemente funzionari allora la vera domanda è come avere una possibile relazione con lo scopo con il telos senza diventarne funzionari cioè veramente autodeterminando il nostro proprio telos per questo facevo riferimento prima alla lettera di rompente di San Paolo e l'interpretazione che ne dà Taubes e a stato di eccezione dove Gambem parla di intendere la politica come non produzione di qualcosa ad esempio climatistica ma amministrazione di ciò che già esiste perché allora provando a fare interagire fra di loro questi concetti provenienti diversi allora potremmo ipotizzare di poter dar vita ad una convivenza nella quale le istituzioni ma non solo le istituzioni ovviamente perché a volte il telos non proviene esclusivamente da istituzioni ora per semplificare diciamo le istituzioni non siano indicative di un telos già predeterminato già costituito e noi non facciamo altro che assumere su di noi e diventarne funzionare ma siano soltanto amministrazione di ciò che già esiste creazione di una sorta di piattaforma sopra la quale ciascuno ha l'onore di autodeterminare il proprio telos mi rendo conto che questo potrebbe portare la critica che si potrebbe fare è quella che potremmo avere una sorta di frammentazione di scopi diversi talmente eterogenei fra di loro che non danno la possibilità di avere una coesione sociale e danno vita ad una perenne conflittualità sociale ad un perenne scontro e così via ma io credo che anche a questo tipo di problema si possa trovare una soluzione considerando il fatto che la non negoziabilità dei valori ultimi degli scopi ultimi io credo che derivi da quando noi assumiamo un valore ultimo uno scopo ultimo come un valore uno scopo che ci è dato da qualcun altro o da qualcos'altro e quindi noi assumiamo questo qualcosa che ci viene da qualcun altro lo consideriamo non modificabile nella forma in cui ci è stato consegnato e questo sta alla sua non negoziabilità perché ci viene consegnato in un certo modo e noi dobbiamo custodirlo in quel certo modo per questo è non negoziabile e quindi ovviamente entriamo in conflitto con chi custodisce altri valori e altri altri scopi che gli sono stati consegnati in altro modo e che ha il compito di custodire in quell'altro modo se noi invece non ci poniamo nell'ottica di dover ricevere il telos e i valori da qualcun altro o qualcos'altro ma nell'ottica di avere l'onore e l'onere di autodeterminarli già è presente in questa autodeterminazione la negoziazione di questi valori e di questi scopi perché se il valore lo scopo noi ci autoconferiamo qualsiasi esso sia già è frutto di un certo tipo di relazione che io intrantengo con il mondo e con gli altri e allora già è il frutto di una negoziazione allora da questo punto di vista si potrebbe superare il problema della non negoziabilità e del conflitto sui valori ultimi perché il conflitto nasce nel momento in cui il valore ultimo ci è consegnato da qualcuno che ci dà al tempo stesso lo scopo di custodirlo in quella specifica forma e allora entriamo in conflitto con chi vorrebbe cambiarlo ma se il valore ultimo invece o lo scopo ultimo che noi diamo alla nostra stessa vita non ci è dato da qualcun altro o da qualcos'altro ma da noi stessi allora è già il frutto della relazione che noi abbiamo con il mondo e con gli altri perché è già frutto di un certo tipo di confronto interazione negoziazione che noi abbiamo avuto con gli altri e allora verrebbe anche così a essere superato il problema di una frammentazione che non permette la coesione sociale la coesione sociale c'è nel fatto che abbiamo relazione con gli altri perché già lo scopo che ci autoconferiamo è frutto di una negoziazione sì è la questione del valore intellettuale della vita di ciascuno che tra l'altro è quel che sfugge alle varie teologie politiche quasi c'è questa questione del valore che la possiamo esplorare in Marx nella teologia e in molti autori è è la questione della di qual è quel valore appunto che non è che non è dettato cioè questa elaborazione che fai sul che non ci sia valore ultimo no allora la questione è cos'è che vale nella vita di ciascuno penso che è una domanda che raramente si pone ciascuno insomma ognuno fa meno di porsi la questione del valore e accetta i valori sociali accetta come dire il vantaggio che è dato prima quando parlavi della della gestione religiosa no e dicevi che non ti bastava come spiegazione perché in effetti il nazismo per esempio assicurava nell'ideologia assicurava il benessere ed è per questa assicurazione di benessere che uno accetta i valori convenzionali i valori già dati mi pare che una questione che viene da altre parti che a me viene da una certa psicanalisi non quella degli psicanalisti diciamo che si ritengono tali non lo so insomma che lo fanno di mestiere lo psicanalista è che è la distinzione tra la questione aperta e la questione chiusa cioè se il tempo è ciclico e nelle teologie politiche nelle scatologie è ciclico se il tempo è ciclico la questione è chiusa e gli umani sono fottuti possono battersi confliggere rivoluzionarsi rovesciarsi ma rimangono schiavi del valore dato rimaniamo esecutori e tu dici la parola funzionari esatto rimaniamo funzionari di marionette che eseguono un programma di cui non sanno chi è stato l'algebrista che l'ha fatti quando invece raramente e questo è il modo del del filosofo ricercatore è il modo dell'artista è il modo dello scrittore comunque rari non intendo scrittori sociali gli artisti sociali si attiene alla questione aperta e allora il valore lo trova come un effetto e anche lì penso che sia da approfondire interessantissima la questione che dici rispetto alla frammentazione parrebbe che se ciascuno arrivasse al valore si esporrebbe all'obiezione ma allora siamo tutti frammentati è un caos e dove andiamo qual è il fine qual è lo scopo qual è il telos e invece se ciascuno procede dalla questione aperta c'è un andare assieme c'è una parola da togliere al dibattito teologico te la propongo perché è una parola interessantissima e ce n'è una terza che fa parlo è una specie di terno e c'è il metodo c'è l'esodo è sempre la via e c'è il sinodo il sinodo purtroppo per noi è il sinodo della curia ma sinodo è una parola bellissima e l'andare assieme non è dato dall'andare assieme perché abbiamo un progetto comune risulta un andare assieme perché ciascuno si attiene all'etica ciascuno si attiene alla questione aperta e va in direzione di uno scopo che non è dato da un protocollo sociale cioè noi oggi stiamo tentando di leggere quel protocollo sociale che ha imbullonato nella parola oggi che hai cominciato a riaprire di teologia politica perché anche appunto la teologia politica di Smith è questa è un'ulteriore teoria chiusa quasi se la accettiamo capiamo alcune cose ma poi per esempio non capiamo il paradosso Smith quello che ha tanto questionato Taubessa cioè che insomma era nazista per reggere la sua teoria lui era nazista e lui era nazista bisogna essere chiaro era nazista tecnico freddo cioè lui era nazista perché bisognava contrastare l'anticristo comunista marxista molto semplicemente allora qualsiasi prezzo era da pagare ma qui si apre anche un un minuto sì sì e un minuto o due per concludere adesso lascio le parole sì allora semplicemente faccio questo accenno qui si apre anche un'altra enorme questione che è quella che noi siamo abituati a pensare che una comunità può darsi o una società sia essere definita in termini religiosi etnici politici e così via può darsi soltanto se c'è un fine comune che unisce tutti gli appartenenti a quella data comunità e che così vanno nella stessa direzione e siamo invece disabituati a pensare che si può avere comunità è possibile averla ed anzi forse addirittura questa è l'unica possibilità di averla e quindi quello che noi crediamo è del tutto sbagliato si può averla nella eterogeneità dei fini se questi non sono eterodiretti cioè imposti dall'alto perché questa eterogeneità è comunque come dicevo prima il risultato di una negoziazione che noi già senza forse rendercene conto facciamo con gli altri perché se io vengo lasciato libero di autodeterminare il valore e lo scopo della mia vita è ovvio che lo posso fare soltanto mettendomi in relazione con chi mi circonda ed è ovvio che questo implica il fatto che chi mi circonda debba non possa ma debba essere diverso da me altrimenti mi relaziono con me stesso e non faccio un passo avanti ovviamente e quindi è fondamentale che ci sia questa diversità è fondamentale che ci sia questa eterogeneità e il risultato al quale approdo già è frutto di una relazione quindi di una negoziazione per questo non c'è frammentazione sociale perché già a priori è compresa la negoziazione nel rapporto quando questo è autentico con il prossimo e sollazzo una proposta potremo incontrarsi più avanti e fare oggi a distanza di più di vent'anni una rilettura per proporre qualcosa e di quello che è stato proprio il testo particolare singolare tra i testi singolari tra l'altro di Agambe c'è la comunità che vi viene cioè discutere attorno a quest'altra comunità di cui stai dando alcuni elementi e la pista veramente interessantissima lo si deve al fatto per esempio che non saprei quali altri libri andare a leggere oltre al fatto di intervistarti cioè non ci sono tanti autori su questa pista e quindi se faremo un incontro su questo argomento cercheremo una una bibliografia che però in effetti al momento mi sembra un po' un po' scarsa o meglio si possono trovare riferimenti nelle pieghe in qualche paragrafo ma non credo che ci sia una bibliografia frontale diciamo sull'argomento esatto ti ringrazio e grazie agli ascoltatori e al prossimo incontro grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi